Due pulsometri sono stati donati al reparto di pediatria dell'ospedale Veris degli Ponti di Scorrano dall'associazione di volontariato Lorenzo Risolo Onlus, da sempre attiva sul territorio con iniziative che puntano ad avviare all'interno dei nosocomi salentini un processo di umanizzazione degli spazi ospedalieri che pone il piccolo paziente al centro delle cure. A Scorrano, come in tutte le altre realtà pediatriche, tiene alto il livello di eccellenza clinica, ma quello non è sufficiente. Dobbiamo anche curare l'aspetto dell'umanizzazione per cui io ringrazio personalmente a noi, tutta l'azienda, i soggetti donatori e l'ulteriore conferma del buon lavoro che si fa in questo reparto. C'è stata una grande partecipazione di forze che si sono incontrate per donare queste due importanti strumentazioni. I dispositivi donati rappresentano due diverse strumentazioni complementari nell'uso capaci di eseguire rilevazioni dei parametri vitali dei bambini in corso di malattie cardiorespiratorie con frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno e frequenza respiratoria. Tecnologia di pulizia del segnale che permette anche nei bambini che si muovono, i bambini che sono riottosi, i bambini che sono meravigliosi, ma sono terribili nella loro purezza, nella loro giustamente si ribellano. E quindi una tecnologia che permette di avere però dei parametri affidabili al pediatra che deciderà poi la terapia ed eventualmente il setting assistenziale più adeguato per il paziente è fondamentale. Grazie. 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 Grazie.